E di cinque feriti il bilancio di un incidente è avvenuto durante la notte in via Eugane a Teolo. Un'auto è finita nel fossato dopo che il conducente aveva perso il controllo. A bordo cinque giovani di età compresa tra i 17 e i 22 anni che sono rimasti tutti feriti. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la vettura, una Opel Corsa e soccorso gli occupanti, presi poi in cura dal personale del suo M118, arrivato con alcune ambulanze. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro e deviato il traffico. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un'ora e mezza.